Grazie a lei Presidente, grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito breve ma chiaramente interessante che offre alcuni spunti. Io non tornerò sulle materie che sono già state ampiamente oggetto della mia relazione su molte risposte che ho già dato nell'altro ramo del Parlamento. Vorrei rispondere a alcune questioni puntuali velocemente e poi riprendere la materia che è stata oggetto della gran parte degli interventi che è quella relativa al posizionamento dell'Italia, ai suoi rapporti e a discussione di merito e di metodo sulle prossime nomine di vertice dell'Unione Europea. Intanto voglio ringraziare il collega Barcaiolo che ricordava nel suo intervento il tema dell'assegno unico l'ho fatto, ho parlato di questa materia anche questa mattina nell'Aula della Camera perché il tema dell'assegno unico è uno dei temi che non accade spesso, mettono d'accordo, diciamo così, quest'Aula, complesso le sue forze politiche.